Ciao a tutti, allora giro questo video subitissimo per farvi vedere e condividere con voi la mia felicità. Sono tornata a casa dal lavoro e mi sono precipitata dai miei genitori perché la mia vicina questa mattina ha ritirato per me un pacchettino che arrivava appunto da una persona misteriosa. La persona in questione è Elisa Pastorello, una ragazza veramente dolcissima che comunque ho conosciuto scambiandomi dei messaggi e mi ha mandato praticamente il mio dono, la creazione che ha fatto per me, quindi mi ha donato quello che poi tra un po' vi mostro per lo swap organizzato dal gruppo Perline dal Mondo, da Jessica, che saluto e ringrazio veramente tanto. Ho deciso immediatamente di mangiare, farmi una doccia e di girare subitissimo questo video perché innanzitutto come ho detto prima sono veramente molto felice dalla meraviglia di cose che comunque mi ha mandato e dalla creazione stupenda che ha realizzato per me. E poi perché una foto messa anche nel post, nel gruppo, anche se le mie luci fanno un po' schifo, però comunque non rende la bellezza di tutto quello che mi ha appunto mandato. Quindi ho deciso immediatamente di fare questo video, sicuramente in primis per ringraziare Elisa perché è stata veramente una swapina unica, gliel'ho già scritto anche in privato, l'ho ringraziata e lo ripeto qua pubblicamente. Quindi adesso vi mostro tutto quello che ho ricevuto, appunto come vi ho detto lo swap era uno swap, non ha indetto nessun tema preciso, ma ha fatto uno swap pilotato. Pilotato perché? Perché ogni coppia veniva sorteggiata a caso da Jessica e si sorteggiava anche il colore che la creazione che le due ragazze abbinate insieme dovevano realizzare una per l'altra. Allora io e Elisa siamo stati sorteggiati oltretutto anche per prime e il nostro colore era il nero, quindi perlomeno parlando anche con lei è un colore che a entrambe piace molto e quindi diciamo che mi è andata bene, perché se già usciva tipo un arancione o un altro colore, non so che pesci avrei pigliato. Torniamo a noi perché sennò dopo i minuti qua passano troppo velocemente, faccio fatica a caricarlo. Quindi questo è il mio bigliettino che mi manda appunto Elisa, che non mostro ma ringrazio per le parole dolcissime che mi ha scritto e questo bellissimo bigliettino. Io purtroppo non sono bravissima con i bigliettini, infatti non gli ho mandato un biglietto chissà che grazioso, però vabbè. E niente, quindi io spero di conoscere ancora Elisa in altre occasioni e magari anche tramite i messaggi privati. Quindi Elisa, sei stata una suappina non all'altezza di più, te l'ho già detto e lo voglio proprio ridire. Cosa mi ha mandato? Mi ha mandato questa creazione che tra un po' vi mostrerò, di questa scatolona grossa, quindi la teniamo per ultima. Mi dispiace soltanto perché penso che questo fiorellino era incollato qua, però le poste italiane sapete che fanno sempre dei danni e me lo sono ritrovato staccato dalla confezione. Però guarda Elisa, questo qua lo conserverò qui dove tengo le mie creazioni perché è veramente molto ma molto bello. Quindi vedete che bella rosellina che ha fatto, adesso non so se le ha fatte lei a mano, comunque è veramente veramente bello. Quindi dopo vi mostro la creazione. Sapeva che io faccio mercatini o comunque faccio creazione e quindi ha deciso di mandarmi del materiale che mi ha acquistato o comunque che ha preso, dicendomi appunto che magari potevano servirmi per appunto questi mercatini. Io la ringrazio perché comunque sono cose favolose e adesso vi mostro cosa ha fatto. Allora, mi ha mandato questo filo di cipollotti che sono utilissimi, soprattutto io adesso sto facendo un sacco di creazioni con i cipollotti e come ben sapete non li trovo. Io spero che qualcuno, di corrompere qualcuno e che qualcuno me li prenda da pakistani che magari è nelle sue zone perché veramente io li uso tantissimo e a me un filo così mi costerà 5-6 euro, non scherzo, quindi pensate voi un po' come sono messa. Quindi questi sono cipollotti, ecco adesso li inquadra bene e sono cipollotti di tutti i colori, quindi ne ho, posso sbizzarrirmi con la scelta e quindi sono sempre ben graditi. Poi mi ha mandato queste perline, non so come si chiamano, ma sono quelle con tutte le decorazioni, se non sbaglio, queste sono quelle che mi ha scritto che ha preso Adabilmente Fiera, mi dice ma sono particolari vero? Sì, sono particolarissime, molto ma molto belle perché me li ha mandati tre bianche, tre nere e tre blu. Io penso di realizzare o degli orecchini o qualcosa ma sono meravigliose, guardate che bello, ne tiro fuori una, se oggi la mia, mio iphone collabora e mette a fuoco bene tutto, prendiamo una bianca che secondo me è una di quelle che si vede meglio. Vedete? Ecco, mette un po' a fuoco, vediamo se arrivo qui. E sono meravigliose, cioè realizzerò sicuramente degli orecchini o comunque un braccialetto, adesso vedo un attimo che è meraviglioso, comunque queste qua non le ho mai, le ho solo, sì, tra viste o in qualche fiera o in qualche mercatino, mercatino o in qualche video su youtube, però non le ho mai avute, quindi sono felicissima che me le ha regalate perché sono felice di provarle. Poi mi ha regalato queste due basi per orecchini, anche queste molto gradite perché ultimamente io nei mercatini sto vendendo orecchini, 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 di tutti i tipi, di tutte le forme, veramente, quindi sono veramente gratiti e quindi li monterò al più presto. Mi ha regalato questi divisori, adesso ve ne mostro uno, che Elisa sappi già che io realizzo una collana con queste, con delle perle che ho in casa, che non sapevo oltretutto come farle, quindi la farò semplice con una perla grossa da una parte e dall'altra e questi divisori che le dividono, mamma, ma sono bellissime, sono veramente belli e quindi poi mostrerò al più presto una creazione con questi qui e ti ringrazio veramente perché non li ho mai, ma mai, ma mai provati di questo tipo, ne provati e ne trovate, quindi ne ho un po' e una collana sicuramente ne esce, quindi grazie e a presto vedrai cosa combino. Poi mi ha regalato questo gufo porta fortuna, veramente bellissimo, sempre nei colori che oltretutto, oltre al nostro swap, oltre a essere il nostro tema, nello swap sono anche i colori che veramente io preferisco. E questo gufetto, che sa che molto probabilmente ha visto il video che mi ero fatta, questo gufetto Maya l'anno scorso, per l'operazione, mi ha regalato questo sperando che mi porti fortuna. Ecco, io questo non lo regalerò, ma lo terrò sempre con me, adesso magari mi faccio un bel ciondolino con una bella catenina e sarà mio, grazie mille, veramente. Il tutto era dentro, in questo bellissimo sacchetto d'organza, che veramente mi piace. Ah, mi sono dimenticata, mi ha regalato anche queste perle colore matite, questi quadratini colore matite e mi realizzerò un braccialetto che andrà benissimo con la creazione che adesso tra un po' vi mostro, perché lei mi ha fatto una parurra, grazie anche per questo, mi ha fatto una parurra, ragazzi, mi ha fatto un paio di orecchini e una collana bellissima, mi ha detto che gli orecchini ha preso spunto da, dove è il gufetto qua? Ha preso spunto da un tutorial su youtube, mentre la collana è olcolier, vediamo se mi ricordo come si chiama, Dilo, non mi ricordo male, di Pencio, quindi potete già immaginare, quindi stacco questo perché poi ho paura che mi si rompa, questa è la confezione e appena l'ho aperta sono rimasta a bocca aperta, a parte che era ben confezionato, quindi guardate, uno, due, eccola qui, guardate che meraviglia, che meraviglia, adesso io l'ho staccata ma era anche ben fissa al suo supporto bianco, questi sono gli orecchini che vi dicevo, bellissima, anche con la monachella nera, mamma mia, io li adoro, poi questo colore è bellissimo, è bellissimo, quindi mi ha fatto gli orecchini e questa collana, che io ci tengo, vediamo se mi alzo, a mostrarvela, forse è meglio che giro, scusate il mal di mare, è così, perché proverò anche adesso a tirarla fuori, però solo così si vede la bellezza, guardate, sono fatte con super duo, le tila, giusto, tila si chiamano, e queste gocce, sempre dello stesso colore, tono su tono, è una collana girocollo, la chiusura è lisa, così è perfetta, perché a me piace proprio così, aspettate che sposto, ed è la fine del mondo questa collana, questo collier qua, io domani lo indosso subito ragazze, perché veramente, è veramente, veramente bello, ecco, mi si sta, ok, scaricando la batteria, quindi è ora che finisca di parlare, 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 grazie, grazie lisa, io non so cosa dirti, perché io spero che quello che ti ho mandato ti sia piaciuto, io le ho fatto il ciondolo vulcano, sui colori appunto del nero e del bianco, ma secondo me non c'è paragone con la creazione che mi hai, che mi hai inviato tu, perché è veramente favolosa, io veramente non ho parole e ti ringrazio con tutto il mio cuore, sei stata veramente una suapina molto generosa e bravissima, viene dal cuore questa creazione, quindi veramente, grazie, non ho parole, io ti ringrazio davvero con tutto il mio cuore e spero che continuiamo comunque a scriverci, anche ogni tanto, giusto per sentirci, perché comunque ci tengo veramente, e niente, io con tutto questo ben di Dio che mi ha mandato appunto la mia suapina, vi saluto, vi mando un bacione, grazie, grazie Lisa e grazie Jessica per avermi sorteggiata, anche se a caso con lei, e per aver organizzato il tutto, siete veramente due persone fantastiche per me, io vi mando un bacio e vi voglio un mondo di bene, ciao!